Ben ritrovati, ben ritrovate sul mio canale YouTube e prima di tutto buon anno. Abbiamo iniziato ormai da qualche giorno il 2021 e siamo pronti per ricominciare il nostro percorso creativo. Quest'anno vorrei fare un percorso continuativo in modo che voi abbiate proprio un cammino che durerà tutto l'anno e soprattutto durante il quale costruirete qualcosa. Non voglio ancora anticipare nulla, sappiate che questi primi incontri dell'anno faremo delle piccole cose, piccoli oggetti creativi che comunque utilizzerete poi nel proseguo. Non vi voglio ancora svelare nulla perché ci sto ancora lavorando con una mia collega, ma l'idea è quella di costruire un journal, chiamiamolo così, che non sarà i soliti che ci sono in giro ormai da tempo e che ci piacciono comunque sempre, ma un journal un pochino più legato ormai lo sapete a quello che faccio io, quindi il concetto dell'energia, delle emozioni, del colore e però con delle frasi, con degli incentivi per voi a creare. Spero sia una cosa che vi piacerà perché vorrei proprio fare un percorso continuativo, un qualche cosa che ci permetterà alla fine del 2021 di guardare a questo, chiamiamolo bullet, chiamiamolo journal, chiamiamolo agenda. Poi lo vedrete nell'arco di... datemi giusto qualche settimana perché sto proprio completando, non voglio ancora svelare nulla perché sarà una cosa molto carina e ci stiamo veramente dedicando tempo. Abbiamo fatto anche noi qualche giorno di, chiamiamola vacanza, ma ci siamo, perlomeno io mi sono tolta abbastanza dai social proprio per stare un attimo serena. Quindi oggi cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere ancora qualcosa di creativo, di molto molto simpatico ma di preparativo, diciamo così, che utilizzerete poi nell'arco dell'anno. Preparatevi il vostro spazio, tenete tutto a portata di mano in modo che così potete lavorare serene, tranquille, mettete una buona musica e ascoltatevi quando lavorate, state in quello spazio, state in quel momento. Bene, procediamo alla creazione. Procuratevi della carta, bella ovviamente, perché realizzeremo un proteggi angolo, chiamiamolo così, per il vostro journal, per la vostra agenda o per quello che poi voi vorrete utilizzare. Si può anche usarlo come segnalibro eventualmente, però è proprio da mettere sull'angolo ma deve essere ovviamente bello, carino, simpatico e lo realizziamo con della carta, possibilmente una carta non esageratamente grossa. Se volete potete stamparvela anche voi. Potete usare della carta se comprate quei fogli che ci sono spesso quando si vanno alle fiere oppure se volete andare in qualche cartoleria, in qualche posto dove vendono questi fogli che sono molto più leggeri e si possono usare più facilmente. Tagliate una striscia da 10 centimetri, sono 4 inch, piegate a metà, trovate la metà, dopo di che piegate i due angoli all'interno, in questo modo, così. Poi ripiegate all'interno, così. Adesso andiamo ad incollare questa parte, incollate tutta la parte. Io sto usando questa colla. Fate aderire bene. a questo punto tagliate esattamente qua, questo pezzo. così. E ora andiamo a tagliare qua, in modo tale che poi lo apriamo. Io lo taglio con la taglierina. Ecco. Una volta tagliato, questo è un altro, una volta tagliato andiamo a arricchire, abbellire questi nostri angoli. Vedete? Può venire così. Oppure, guardate che belli che sono. Adesso andiamo ad abbellire. Un'altra idea. Siccome mi piaceva molto questo pezzetto di carta, ma non mi basta per fare il giro come vi ho fatto vedere prima. Allora ho ritagliato un angolo, lo vado a incollare sopra qua, anzi sotto praticamente, in modo che, vedete, mi viene bello l'interno e qua rimane chiuso. Quindi vado a incollare solamente mi raccomando, rimanete qua. Non andate a incollare altro perché altrimenti poi non riesce più. scusate che mi sono spostata. Rimanete sempre su questo, in modo da poter fare così. Vedete? Rimane bello. E qua si può aprire. State attente perché se sbagliate a incollare poi, ovviamente, si incolla tutto e non riuscite più a usare il vostro angolo. Sussistemo bene, poi taglio questo pezzettino in più. Posso tagliare questo con la forbice un po' lavorata. Io ho questa. Guardate che bello. Viene così. E questo, ovviamente, è un pochino più grande. Adesso, anche qui, andiamo ad abbellire tutto quello che abbiamo preparato. Cosa usiamo per arricchire, per abbellire? Un pezzetto, per esempio, di pizzo piccolino, lo possiamo inserire qua. Un altro pezzo di pizzo, ho trovato questo fiorellino, gliel'ho incollato sopra. E adesso vado a fare, per esempio, così. Con la cicolla vado a incollare questo pezzo. Ecco, per esempio, come può venire. Qui, a macchina, ho cucito questi due pezzettini di rete e questo pizzo legato, anzi cucito, all'interno di quest'altra rete. Qui c'è un altro pezzettino e lo mettiamo qua e lo inseriamo, per esempio, qui. Ecco un'altra idea, per esempio. Ecco un altro particolare, qui ho aggiunto anche un pezzetto di vecchio libro. Adesso qua vorrei aggiungerci, per esempio, questa medaglietta che mi piace molto come idea. Qui c'è scritto TIME. Ho fatto un foro e ho agganciato con una spillina ho agganciato la parola TIME. E adesso la metto, per esempio, vediamo come può stare sulla pagina di un libro, di un quaderno, di un book. Bello, molto bello. Oppure vediamo in un'altra pagina. Veramente bello, mi piace. Vediamo come può stare in un'altra pagina ancora. Questo? Ah, bello! Direi che potete farne tantissimi, metterli nei vostri book, nelle vostre agende. Quindi è un... Poi, in base anche a quello che andremo a... Quello che vi presenterò nei prossimi, nelle prossime settimane, sono veramente belli da fare. Un'altra cosa che non vi ho detto, potete farlo anche con una rivista, per esempio. se ha una bella immagine, guardate che bello questo anello che si vede, potete incollarla, anzi no, usiamo l'attacchi. Vi faccio vedere, vedete, vi faccio vedere come è venuto quello che vi dicevo prima con la carta da rivista. Quello che ho ritagliato, che era un pochino più lungo, perché non mi... Cioè, mi piaceva questo tipo di di carta, ma non mi bastava per fare tutto il giro e quindi ho creato, vedete, vi avevo fatto vedere come si fa. Qui ho spruzzato un po' di colore in modo che mi rimane tutto omogeneo e qua ho aggiunto un fiore, ho aggiunto una farfalla, una piuma, qui una perla e veramente sono facili da fare, veloci, perché comunque vedete che basta che vi tenete vicino carte, pizzi, piccole cose che possono rendere il tutto, possono abbellire il tutto e veramente creare degli oggetti che vi faranno diventare i vostri quaderni, le vostre agende molto più belli. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi, mettete un like, iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Alla prossima settimana e ricordatevi che ci sono un po' di novità in arrivo. Ciao! 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 Ciao!